Ciao a tutti! Oggi prepareremo il tortino al cioccolato con cuore morbido. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore e 30 minuti circa. Ingredienti sono cioccolato fondente, burro, zucchero, uova, farina di tipo 00, sale, cannella e vanillina. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato fondente e lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Aggiungiamo sul fondo del boccale con la spadola. Aggiungiamo il burro e lo zucchero. Ed azioniamo il bimbi per 6 minuti, 50 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina, le uova, la cannella, il sale e la vanillina. ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4. Trasferire il composto in stampini monoporzione. Riporre in congelatore per almeno due ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso i tortini dal congelatore. Adesso li andremo a cuocere in forno a preriscaldato statico a 200 gradi per 15 minuti. I tortini sono cotti. Riponiamoli dallo stampo e riponiamoli in un piatto da portata. Tortino al cioccolato con cuore morbido. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!